Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Sorpasso azzardato con lo scooter, muore a Fossombrone Filippo Morelli, titolare dell'omonima concessionaria di moto Fanese tenta di suicidarsi, toccando i fili dell'alta tensione e lascia al buio un'intera frazione Un cane di grossa taglia scappa dal recinto, azzanna un cagnolino e lo uccide La padrona lo vede e sviene, è accaduto a Fano A Senigallia un antennista precipita dal tetto e muore, inutili soccorsi Protesta nel carcere di Villa Fastigia a Pesaro Quattro detenuti nordafricani tentano di incendiare un materasso Volevano più olio per fare il ramadan Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, sul canale 17 c'è l'informazione locale Occhio alla Notizia Apriamo con la cronaca Un sorpasso azzardato, mentre l'auto che lo precedeva, guidata da un moldavo di 29 anni, stava svoltando a sinistra Poi lo schianto e l'impatto contro il muro di cinta di una concessionaria E' morto così Filippo Morelli, 42 anni, titolare dell'omonima concessionaria di moto a Fossombrone Gravissimo incidente stradale questa mattina a Fossombrone in via Enrico Mattei lungo la vecchia Flaminia Poco dopo le 11, uno scooter sul quale viaggiava Filippo Morelli, che stava percorrendo la stessa strada in direzione Fano Si è scontrato contro un'auto guidata da un uomo che stava svoltando a sinistra Morelli, che gestisce un negozio di moto a poca distanza dal luogo dell'incidente E' caduto a terra ed ha sbattuto la testa violentemente contro il muro di cinta di un concessionario di auto, la Car Service La sua omonima rivendita di moto di Fossombrone mesi fa aveva subito un furto di ingente quantità di moto con un danno di oltre 100.000 euro Ai primi soccorritori il centauro è apparso subito in gravissime condizioni Nonostante indossasse il casco, l'urto gli è stato fatale E dopo essere stato stabilizzato dai sanitari del 118 è stato trasferito al torrette di Ancona in eliambulanza Dove però è deceduto poco dopo il suo arrivo all'ospedale E c'è stato un incidente sul lavoro, un incidente mortale questa mattina intorno alle 12.30 a Senigallia A perdere la vita un antennista che stava realizzando un lavoro sul tetto di un condominio in via Pasubio L'uomo è precipitato per diversi metri morendo sul colpo Si chiamava Massimo Schiaroli, 45 anni, residente a Marzocca, titolare del negozio di materiale elettrico Tele Elettra in via Boccherini Secondo una prima ricostruzione Schiaroli sarebbe caduto in modo accidentale Potrebbe aver perso l'equilibrio oppure essere scivolato o aver avuto un capogiro Sul posto è arrivato anche il magistrato Sul tetto c'erano ancora gli attrezzi da lavoro mentre accanto al cadavere l'antenna che stava sistemando Un fanese di 32 anni la notte scorsa ha tentato di togliersi la vita toccando i fili dell'alta tensione Però senza riuscirci, provocando un blackout che ha lasciato al buio un intero quartiere Vediamo Un lampo che illumina la notte, due esplosioni che rompono il silenzio della sera Con un urlo che di umano ha poco E la sagoma di un uomo che precipita da un traliccio in cemento della corrente E si schianta sulla rete di recinzione facendo un volo di 8 metri con un tonfo sordo Siamo in via Torno a Falcinetto, sono le 9.40 di sera Ed un abitante del posto a poche decine di metri dal traliccio assiste alla scena Esce di casa e si precipita dall'uomo per prestargli soccorso Pensando al peggio, ma l'aspirante suicida si rialza e Claudicante scappa nei campi La reazione lascia allibito il soccorritore Ma con tutta probabilità la rete di recinzione lo ha salvato attutendogli l'urto Sarebbero bastati pochi centimetri invece E sarebbe rimasto infilzato nel palo di ferro che la sostiene Il testimone incredule a quel punto chiama le forze dell'ordine che arrivano sul posto Parte la caccia all'uomo, due volanti del commissariato di Fano con 5 agenti Una pattuglia dei carabinieri e due squadre dei vigili del fuoco Setacciano per tutta la notte la zona Cercano un trentenne di Fano Uscito di casa sembrerebbe in stato confusionale Che ha tentato di togliersi la vita salendo su un palo della linea elettrica Che alimenta una cabina dell'acquedotto Lo hanno cercato per diverse ore anche con l'ausilio di visori notturni a raggi infrarossi L'uomo è alto un metro e novanta e di corporatura robusta, sportivo La sua sagoma si inquadrerebbe subito Dopo molte ore di ricerche viene ritrovato a 5 chilometri di distanza nella zona di Cerbara All'una e trenta di notte con ustioni di secondo grado sul petto e sull'avambraccio sinistro A quel punto vengono avvisati i familiari che lo portano loro stessi al pronto soccorso dell'ospedale di Fano Dove si trova tuttora ricoverato, sembrerebbe non in pericolo di vita E adesso la triste vicenda del bambino morto per un'otite curata con l'omeopatia E allora il dottor Massimiliano Mecozzi, il medico omeopata che aveva in cura il piccolo Francesco Morto a 7 anni per le complicanze appunto di un'otite batterica trattata con l'omeopatia e non con gli antibiotici Avrebbe cancellato il video che la mamma del bimbo gli aveva inviato con il telefonino il 23 maggio Cioè qualche ora prima di chiamare il medico del 118 che poi ha trovato Francesco già semi-incosciente in codice rosso Immagini registrate con il telefonino, dicevo immagini drammatiche in cui la mamma disperata chiedeva al medico Se non fosse il caso di ricoverare il figlio visto che stava sempre peggio e i preparati omeopatici non avevano avuto alcun effetto Adesso il PM di Urbino, Irene Lillio, ha nominato un perito informatico, un consulente informatico Luca Russo Che dovrà esaminare il PC, il computer e il cellulare che sono stati sequestrati all'omeopata Così come i telefonini e il PC dei genitori del bambino Intanto domani, mercoledì a Cagli, ci sarà il funerale del piccolo Francesco Il funerale fissato per le ore 15.30 nella parrocchia di San Pier Damiani Un cane, un cane di grossa taglia che fugge dal recinto di casa Esce in strada, vede un cagnolino, lo azzanna, lo sbrana e lo uccide Alla vista di questa straziante scena, la padrona del cagnolino si sente male e sviene È successo a Fano Una tranquilla passeggiata serale con il proprio cane può trasformarsi in pochi istanti in un film dell'orrore Con il proprio fedele amico dilaniato sotto i propri occhi È accaduto in via Tasso, a pochi passi dalla rotonda L'altra sera, nell'orario classico della sgambata, poco dopo le 19.30 Come tanti, in quella zona, aiutati dalle aiuole verdi presenti Un uomo accompagna il suo cagnolino di piccola taglia al guinzaglio Come probabilmente fa ogni sera Ma l'altra sera è successo qualcosa di inaspettato Pochi secondi e un abbaiare convulso di un cane di grossa taglia che si avvicina Frazione di secondo, l'animale ha già tra i denti la bestiola malcapitata Due, tre, stattonate e tutto è finito Le urla impotenti dell'uomo richiamano i vicini, le persone presenti nei negozi Per il piccolo, fedele compagno non c'è più nulla da fare Gli ha dato un morso? Tre morse L'aveva già ammazzato, non ho fatto tempo neanche a mettere giù la bicicletta È pericoloso perché se ci sono dei bambini È pericoloso, io ho quel cane lì Li devono portare fuori o con la muserola e con il guinzaglio Non ne sciolte E il signore si è sentito male anche? Eh, non è che stava tanto bene C'erano dei sbucci sui bracci, sulla schiena Perché lui ha tentato di portaglielo via il cane? No, lui ha tentato di prendere l'altro, ma sì, si è svincolato E non c'è stato verso? No E c'è stato un po' di trambusto, è stata chiamata l'ambulanza L'ha chiamata lei anche? Sì, l'ho chiamata io l'ambulanza L'ho chiamata i carabinieri Ma ha risposto quelli di peso, quelli di peso ha passato quelli di fano Il cane di grossa taglia è un cane di un privato Sembrerebbe sfuggito al controllo dei padroni Schizzato fuori dal cancello di casa Il proprietario invece del piccolo cane ha tentato il tutto per tutto Per sottrarre dall'orrenda fine il suo amico Ma non c'è stato niente da fare Rimangono solo le lacrime e la disperazione I testimoni ci raccontano che l'uomo è stato raggiunto sul posto dalla moglie La quale, alla vista di quel lenzuolo bianco sul selciato, ha avuto un malore Lì sotto c'era ciò che rimaneva di un festante, fedele compagno di vita Che nulla chiede e tanto dà Nella notte di domenica scorsa c'è stato un incendio nella cella di quattro detenuti nordafricani Che protestavano per non aver ottenuto una sufficiente quantità di olio crudo necessario per il mese del Ramadan Ma uno di loro ha ripetutamente tentato di dar fuoco al letto e alle lenzuola E ha minacciato gli agenti di polizia con delle bombolette del gas da cucina A dare la notizia è stato il Sappe, che è il sindacato autonomo di polizia penitenziaria Che parla di quattro detenuti come di fondamentalisti musulmani simpatizzanti della Jihad Una descrizione smentita da fonti del carcere che escludono si tratti di soggetti radicalizzati I quattro detenuti hanno condanne per violenza sessuale, rapina, sequestro e lesioni Stando al Sappe, al sindacato, uno dei detenuti avrebbe minacciato gli agenti con delle lamette e dell'olio bollente Chiudiamo quest'ampia pagina di cronaca e adesso vi parliamo invece di una gita, una gita annuale Per l'ultima puntata del programma Il Pesce Azzurro Show i comici del San Costanzo hanno fatto eruzione Nel corso appunto di questa gita annuale con i soci della cooperativa accompagnati dal loro presidente Marco Pezzolesi La tappa di quest'anno è stata a Mantua, dopo aver scherzato e animato durante tutto il viaggio Daniele Santinelli e Orietta Pedotti, si sono improvvisati guide turistiche Che in pomodo loro hanno raccontato la storia della città di Mantua Pranzo poi in un'osteria tipica del posto e a seguire visite a musei, piazze e palazzi Poi una volta rientrati a Fano, cena per tutti al Pesce Azzurro Appuntamento dunque a giovedì dopo il telegiornale Questo è il numero di telefono 338 49 68 250 per le vostre segnalazioni Anche oggi ne avete inviate davvero tante, grazie Sapete, e lo ricordo ancora una volta, che le migliori, quelle più interessanti Gli scoop vengono pagati con le ricariche telefoniche di 5 euro Vengono premiati con le ricariche da 5 euro Io mi fermo qui, grazie per averci seguito A tutti gli auguri di una buona serata, arrivederci Grazie